A palla lontana, questo è l'intervento di Milito, va giù Totti, Rizzoli fa proseguire e poi Totti è andato a cercare Milito e lo ha colpito così. Sì, un fallo da dietro, ma io non lo so. È una grande leggerezza da parte di Totti. Il bombe è lui che l'ha detto. E arriva adesso il cartellino giallo per Totti. Evidentemente gli è stato segnalato o dal quarto uomo o dal... Fuori Totti. Esce Totti.